abbiamo ancora stampati negli occhi e nel cuore le immagini e le emozioni di Tokyo 2020 ma dopo sei mesi siamo qui pronti per una nuova grande avventura a cinque cerchi perché dal 4 febbraio partono i giochi olimpici invernali di Pechino 2022 bentornati a tutti voi sull'Olin Podcast il primo di tanti appuntamenti dedicati a Pechino 2022 che vi accompagneranno per tutta la durata dei giochi su questo canale i giochi iniziano ufficialmente venerdì 4 febbraio con la cerimonia d'apertura che si svolgerà allo stadio Bird's Nest Nilo di Uccello lo stadio teatro dei giochi estivi del 2008 e Pechino diventa grazie a questo la prima città nella storia olimpica ad ospitare sia giochi estivi che giochi invernali un fatto assolutamente importante ma due giorni prima di questa cerimonia d'apertura ci saranno già i primi eventi di gara in particolare mercoledì 2 febbraio il primo atto agonistico di Pechino 22 sarà il primo turno del torneo del doppio mistero del curling doppio mistero del curling che ha debuttato quattro anni fa e che vedrà in questa edizione per la prima volta la partecipazione anche dell'italia quindi il duo italiano sarà la prima squadra azzurra a scendere in questo caso sul ghiaccio a scendere in gara per i colori italiani a Pechino 2022 e anche giovedì si proseguirà con il curling doppio misto ancora e sarà proprio la volta degli azzurri contro gli States alle due di notte avremo anche alcuni match dell'hokei femminile le qualificazioni del freestyle del moguls femminile e maschile e anche venerdì prima della cerimonia d'apertura ci sarà un antipasto con ancora hokei femminile curling doppio misto e la prima parte di gara del team event del pattinaggio artistico dove anche qui avremo in gara l'italia e poi la cerimonia d'apertura e quindi finalmente inizieranno le giornate classiche tradizionali olimpiche a partire da sabato quindi dal 5 febbraio cominceremo tutti i giorni a vedere i titoli assegnati sino al 20 febbraio che sarà la giornata di chiusura trattandosi di olimpiadi invernali sarà più facile seguire i giochi essendo meno eventi meno sport e questo si ripercuoterà positivamente anche per la fruizione dei giochi in televisione dove sarà possibile vedere Pechino 2022 in tv allora come a Tokyo avremo i diritti esclusivi integrali assegnati a Discovery Plus quindi se si farà vedere tutta l'olimpiade bisognerà pagare questo abbonamento mensile di 7,99 per avere accesso sulle varie piattaforme tablet, smartphone, pc non sempre smart tv perché purtroppo l'app di Discovery non è disponibile per tutti i modelli di smart tv e questo è sicuramente una cosa molto negativa quindi pagando questo abbonamento si avrà l'accesso a tutti i segnali di gara in diretta on demand anche con vari audio di lingue e commento diverse con la possibilità anche dell'ambient sound che personalmente consiglio a quelli che faranno l'abbonamento a Discovery perché è molto interessante seguire la gara con il suono originale che proviene dal campo di gara senza il commento per quanto riguarda invece i secondi diritti, diritti in chiaro saranno della Rai la Rai avrà a disposizione 100 ore di diretta da mandare in onda sui propri canali che saranno Rai 2 e Rai Sport a seconda delle diverse fasce orarie e sarà possibile a differenza di Tokyo anche guardare questi canali in streaming quindi poter assistere sia alle dirette che alle repliche nel momento in cui andarli in onda sui canali di Rai 2 e di Rai Sport e questo sicuramente è qualcosa che a Tokyo era molto mancato e per fortuna a Pechino avremo anche questa possibilità sicuramente l'impegno invernale è più facile da gestire anche televisivamente perché essendo meno eventi anche con i secondi diritti si riesce a coprire bene l'evento a far vedere tutte le gare degli italiani, a gestire meglio le repliche e c'è la possibilità di offrire comunque un servizio assolutamente completo quindi nel complesso sarà possibile seguire sicuramente bene questa Olimpiade e attraverso Rai e attraverso Discovery che farà un servizio migliore rispetto a quello che ha offerto a Tokyo che fu carente sotto tanti punti di vista, l'organizzazione, commento, approfondimento assegnato a persone che certamente nulla hanno a che fare con le Olimpiadi estive o con la cultura olimpica estiva e in questo caso invece avendo una tradizione loro abbastanza importante sugli sport invernali sicuramente avranno un servizio migliorato però ci auguriamo che l'Olimpiade possa il più presto, soprattutto quella estiva tornare in chiaro perché è importante sia perché davvero l'Olimpiade non dovrebbe essere mai a pagamento sia perché quelle due settimane permettono di entrare nelle case di tutti gli italiani permettono di essere un grandissimo biglietto da visita per tutti gli sport olimpici per la bellezza dei cinque cerchi per allargare e espandere la cultura sportiva è fondamentale, abbiamo visto tante volte nelle gare olimpiche anche quest'estate, la scorsa estate atleti che dicevano faccio questo sport perché ho visto in tv da piccolo e mi sono incuriosito ecco è importantissimo che l'Olimpiade arrivi integralmente in chiaro in tutte le case degli italiani e nelle case delle persone che magari non guardano mai lo sport se non calcio e che non sia qualcosa che appunto rimanga legato al discorso pay perché il discorso pay permette di creare una nicchia di appassionati ma non permette di andare al di là, di espandere il pubblico quindi è importante che torni il chiaro, torni al più presto e integralmente ovviamente essendo un'Olimpiade che si svolgerà in Asia in questo caso in Cina avrà i propri orari la maggior parte delle finali si svolgeranno quando in Italia saremo tra le 8 e le 14 ma ci saranno anche tante finali, tanti eventi da medaglia che si svolgeranno nel cuore della notte come ad esempio le gare dello sci alpino, dello snowboard o le finali del patinaggio artistico che comunque andranno in scena sempre nel cuore della notte italiana per avere il prime time in America le TV americane hanno infatti preteso questo come hanno fatto con il nuoto a Tokyo e quindi galleggeranno i patinatori di mattina per avere il prime time appunto in America e da noi sarà notte fonda quindi spesso sarà difficile eseguire le gare in diretta perché gli orari sono quello che sono però vale la pena per un grande evento che si verifica a cadenza come sappiamo quadriennale di sacrificare qualcosa di sonno in più per vivere comunque delle belle emozioni e delle belle gare purtroppo è un'olimpiade che come a Tokyo sarà ancora contraddistinta dall'emergenza COVID-19 quindi gli atleti, i tecnici, i accompagnatori tutti quelli che saranno al seguito dovranno essere sottoposti a una bolla che sarà più rigida di quella che ci fu in Giappone il protocollo è abbastanza severo per tutti tantissimi controlli questo vale anche per il pubblico che tornerà ad assistere alle gare ma non sarà un pubblico ovviamente straniero sarà un pubblico solo composto da cinesi e non è un pubblico pagante ma è un pubblico di persone che saranno invitate quindi si accederà ad invito alle gare e bisognerà ovviamente per accedere alle gare rispondere a determinati requisiti sempre in base alle norme di contrasto al COVID-19 ma comunque ci dimenticheremo sono sicuro di tutto quanto questo quando le gare inizieranno come abbiamo fatto a Tokyo perché le emozioni degli atleti le storie olimpiche poi alla fine ci coinvolgono sempre ci fanno dimenticare purtroppo il momento che ancora stiamo vivendo e che speriamo davvero possa finire al più presto perché sinceramente siamo tutti stanchi di questa pandemia e davvero speriamo che torni al più presto la vera normalità per quanto riguarda l'Italia saranno 118 gli atleti azzurri in gara quindi 4 in meno rispetto a Pyeongchang 2018 e di questi 118 ben 56 saranno al debutto quindi avremo un bel mix tra atleti comunque veterani atleti con grande esperienza pensiamo ad esempio a Ram Fish D'Ale nello snowboard parallelo che insomma ha superato i 40 anni e l'atleti che hanno vinto medaglie nelle scorse edizioni e poi appunto questi debuttanti quasi la metà della spedizione è fatta da debuttanti sicuramente un investimento anche questo per quanto riguarda quello che sarà poi tra 4 anni l'Olimpiade Italiana di Milano Cortina 2026 le donne sono 46 parliamo del quasi il 40% del totale è una spedizione molto interessante che ha un obiettivo chiaro ben definito ovvero quello di andare a superare quota 10 medaglie il numero 10 è sempre un numero importante per i giochi invernali perché soltanto in 6 occasioni in tutta la storia abbiamo raggiunto o superato questa cifra nel medagliere complessivo e poi vabbè c'è un'unica edizione in cui abbiamo vinto 20 medaglie parliamo di Lilleham nel 1994 è un'edizione iconica con delle vittorie che sono rimaste nella storia dello sport italiano pensiamo alla staffetta 4x10 maschile con Silvio Fauner che vince lo sprint su Biardelli davanti a una marea di norvegesi un qualcosa che nello sport si può paragonare soltanto al Maracanazzo forse del 50% quando nel Mondiale di Calcio Uruguay batte il Brasile davanti a 200.000 persone è un qualcosa di simile a questo quello che accade in quella staffetta poi vittorie bellissime in tante discipline è un'olimpiade che vide 7 ori 5 argenti 8 bronzi ed è il nostro massimo assoluto nella storia olimpica in venale mai avvicinato ci auguriamo che un domani questo risultato possa essere raggiunto perché no anche superato ma davvero stiamo parlando del top di un'olimpiade magica che è lì è messa lì ed è in questo momento assolutamente irraggiungibile ma speriamo che possa esserlo un domani e quindi se prendiamo tutte queste olimpiade a partire parliamo degli ultimi anni fino agli anni 80 da Calgary 88 possiamo vedere che l'Italia appunto ha vinto solo in 6 occasioni 10 o più medaglie e nelle ultime 3 in particolare è in crescita perché 5 medaglie a Vancouver 2010 che è davvero il minimo con un solo oro quello di Razzogno nello slalom le 8 medaglie a Sochi con nessun oro e poi appunto le 10 di Pioncian con 3 ori 2 argenti e 5 bronzi se parliamo di medaglie d'oro il nostro a parte il massimo già citato delle 7 vinte a Lillealber nel 94 il massimo è 5 vinto a Torino 2006 poi abbiamo le 4 di Soltero City 2002 e di Albertville 1992 e inoltre ci sono anche le 4 medaglie d'oro vinte a Grenoble nel 1968 questo per dire che quando parliamo di Italia giochi invernali dobbiamo tenere presenti queste cifre l'obiettivo di questa spedizione oltre a superare i 10 medaglie è quello di superare il numero di ori vinti a Pioncian nel 2018 quindi arrivando magari a 4 ori è difficile poter dire esattamente quanti ori vincerà l'Italia l'unica cosa che possiamo dire è che ci muoviamo in un range che va dai 2 ori ai 5 ori in grosso modo questa è la previsione su quello che potrebbe veraisticamente accadere la spedizione italiana con la possibilità anche di essere sorpresi piacevolmente ancora in meglio le 10 medaglie dovrebbero essere superate ma abbiamo delle carte importanti ma come sempre l'olimpiade è imprevedibile e quindi abbiamo visto anche a Tokyo tutti quanti davamo quasi già preassegnate delle medaglie d'oro nella scherma nel tiro invece non è ne è data neanche una mentre abbiamo vinto 5 ori nell'atletica e che ori quindi l'olimpiade è sempre imprevedibile anche qui a Pechino avrà credo lo stesso quindi avremo atleti sicuramente candidati a vincere medaglie o a vincere ori che magari non riusciranno a farlo e atleti che andranno al di là delle più rose aspettative che ci sorprenderanno quindi prepariamoci a farci sorprendere prepariamoci a vivere queste olimpiade dal punto di vista italiano giorno per giorno senza fare processi sommari come ha caduto a Tokyo dopo pochi giorni dove alcuna parte della stampa o pseudo stampa pseudo city in particolare parlavamo di fallimento salvo poi rimangiarsi tutto con la coda fra le gambe dopo le 40 medaglie e i successi straordinari che si sono verificati quindi viviamola giorno per giorno noi sul canale parleremo appunto di volta in volta di quelli che sono i azzurri in gara delle speranze che avranno e commenteremo risultati assieme a voi in linea di base possiamo dire che le punte le conosciamo tutte sicuramente nello schialpino Sofia Goggia senza l'infortune sarebbe stata forse la carta principale per un oro olimpico per lo schialpino lei sta recuperando ce la sta mettendo tutta filtra ottimismo sia da lei che dal suo entourage quindi confidiamo davvero che Sofia possa essere in gara a difendere il titolo vinto quattro anni fa c'è comunque anche Federica Brignone che è una carta importante abbiamo la Curtoni anche nello schialpino comunque qualcosa di interessante potrebbe arrivare c'è la discesa libera con Dominic Paris abbiamo Vinazzer Razzoli che non lo so l'hanno fatto molto bene c'è comunque Dali Pandrini che viene da una medaglia mondiale nel gigante insomma carte ne abbiamo nello sci abbiamo delle carte anche in alte discipline nello sci di fondo c'è comunque lo sprint abbiamo Pellegrino abbiamo il Bietlon con Dorothea Wierer che è tornata a vincere in Coppa del Mondo e che insegue comunque quello che sarebbe il coronamento di una di una carriera abbiamo possibilità nello snowboard con Michela Moioli nello snowboard cross campionista olimpica in carica con la squadra maschile con la con la competizione mista anche nel parallelo con Roland Fisnaller che continua davvero a vivere una fase di giovinezza nonostante abbia superato già i 40 anni e e poi ancora tanto alto lo short track con Anna Fontana la squadra nel pattinaggio di velocità abbiamo delle carte importanti c'è soprattutto la mass start con Francesca Dello Brigida che è una ragazza che viene al pattinaggio a Rotelle e che già a Pioncianga 2018 era candidata per provare a essere sul podio e poi non ci riuscì ma qui davvero ci proverà ancora con più forza abbiamo comunque dei pattinatori artistici che possono entrare nelle prime sei posizioni pensiamo a Daniel Grass in particolare dopo la sua medaglia bellissima agli europei insomma c'è tanto e tanto ancora abbiamo anche delle sorprese possibili perché no nello skeleton con Valentina Margaglio che quest'anno ha fatto alcuni podi in Coppa del Mondo una crescita pazzesca rispetto all'anno scorso Valentina potrebbe tentare anche di inserirsi nel discorso medaglia e sarebbe una medaglia storica perché lo skeleton cosa che molti non sanno è lo sport che ci ha dato la prima storica medaglia italiana alle Olimpiadi invernali e fu un oro con Nino Bibbia nel 1948 abbiamo anche sul canale la sua storia se volete guardarla quindi ecco speriamo di vivere delle medaglie storiche questa lo sarebbe sicuramente ma ovviamente abbiamo anche non ho citato comunque lo slittino che potrebbe offrire qualcosa di interessante con Dominic Fishnaller c'è tanto c'è tanto da dirlo lo faremo nei prossimi giorni volta per volta nel dettaglio e lo faremo analizzando ogni giorno le possibilità di medaglia parlando di tutti gli sport quindi commentando quello che è accaduto quello che potrebbe accadere ci focalizzeremo molto proprio sui italiani perché essendo un canale dedicato agli appassionati italiani di cinque cerchi sicuramente è un discorso a cui teniamo molto ma parleremo anche tutto quanto il resto parleremo del contorno parleremo delle gare dei grandi personaggi delle storie che sicuramente ci saranno dell'Olimpiade insomma a 360 gradi e vi invitiamo a essere parte attiva di questa community attraverso commenti attraverso domande attraverso interazione seguite anche il profilo Instagram la pagina Facebook e il canale Twitter se volete insomma speriamo di vivere assieme questa nostra passione olimpica come recita appunto il nostro hashtag e di poter stare 16 giorni assolutamente in una bella community di appassionati chiaramente tra i vari post che troverete nella community ci saranno anche tutti i giorni quelli dedicati al programma di gare quindi il programma di gare dettagliato con tutti gli orari volta per volta al giornato anche con gli azzurri in gara quindi lo troverete tutte le sere prima dell'inizio della giornata di gare come è accaduto per Tokyo per cui sarà un modo anche per poter essere sempre informati e poter sempre sapere che cosa ci dobbiamo aspettare in quella giornata di gara oltre all'Italia avremo altre 90 rappresentative nazionali quindi saranno 91 i paesi in gara a Pechino e per la prima volta avremo anche Arabia Saudita e Haiti una novità assoluta gli sport sono 15 ma ci saranno 7 eventi di gara in più in totale saranno 109 gli eventi che assegneranno medaglie i nuovi eventi saranno il monobob femminile che è una novità assoluta avremo il big air del freestyle sia femminile che maschile e poi altri eventi di gara misti nel freestyle nel salto con le scine nello snowboard e nello short track peraltro in alcuni di questi eventi avremo anche chance di medaglia e questi vanno aggiungersi appunto al curling misto che già avevamo visto a Pyeongchang 2018 in cui come detto in precedenza avremo la coppia italiana per la prima volta anche nel curling misto i premi a scendere sul ghiaccio per i colori azzurri a Pechino 2022 a farla da padrone dovrebbe essere la Norvegia che ha sicuramente più possibilità di tutti di conquistare ori e medaglie seguita proprio dalla rappresentativa russa ancora una volta la Russia non gareggerà con la propria bandiera con il nome Russia ma avremo come a Tokyo il Russian Olympic Committee quindi il comitato olimpico russo quindi vedremo la schetta rock vicino agli altri russi ma comunque la squadra russa avrà grandi chance di dare più della torcere a tutte le altre nazioni e di conquistare probabilmente la seconda piazza nel medagliere un piccolo appunto per quanto riguarda i russi che saranno anche i favoritissimi del torno a 2 qui su ghiaccio eccolo che su ghiaccio purtroppo si avrà il suo massimo al femminile nel maschile ancora una volta per la seconda edizione consecutiva non vedrà la partecipazione dei giocatori professionisti della NHL della National Hockey League perché a causa del covid quest'anno che si è deciso di tornare alle Olimpiadi dopo 4 anni purtroppo tante partite di regolazione sono saltate quindi per recuperarle la Lega ha dovuto cancellare la partecipazione alle Olimpiadi quindi avremo un torneo che sarà comunque sicuramente sempre bello di valore però assolutamente privo del fascino che avrebbe avuto con tutte le star che giocano nel maggiore campionato nordamericano quindi la Russia sarà sicuramente favorita perché avrà giocatori importanti che comunque giocano in Russia nella KHL però nationali come il Canada e gli Stati Uniti sono veramente depotenziati e tante stelle anche di altre nazionali mancheranno quindi è un peccato perché è lo sport di squadra più importante che c'è nell'Olimpiadi invernale e sicuramente sarebbe potuto essere un altro tipo di spettacolo ma per fortuna siamo certi che questo spettacolo tornerà a Miano Cortina nel 2026 e saremo ben felici di potervi assistere quindi per il momento tutto non resta che prepararci davvero a vivere assieme queste Olimpiadi questo appuntamento era soltanto per una piccola introduzione a quello che sarà per il 2022 la cerimonia d'apertura ripeto è prevista per venerdì 4 febbraio alle ore 13 in Italia e a portare la nostra bandiera sarà Michela Moioli dato appunto che Sofia Goggia non potrà essere in Cina prima del 8 febbraio e quindi sarà Michela la nostra portabandiera a proposito di Michela voglio ricordarvi che sul canale è disponibile una web serie esclusiva in tre episodi che racconta proprio la storia della nazionale italiana di snowboard cross associ 2014 è stata la prima esperienza olimpica per Michela Moioli che sfiorò la medaglia l'ha persa davvero per pochissimo cadendo l'ultima curva ed è un qualcosa di originale assolutamente esclusivo perché parliamo di riprese fatte dagli stessi atleti questo era un montaggio che era esclusivamente destinato a loro che avevano partecipato su quello che era il vecchio sito di cerchi di gloria a un progetto legato all'avvicinamento a soci era un montaggio per loro in occasione dell'avvicinamento a Pechino abbiamo deciso di metterlo online ovviamente facendo un montaggio editato nuovo apposta per YouTube quindi è molto interessante perché sono loro stessi che ci fanno vedere come vivono le Olimpiade dalla partenza fino a ritorno poi a casa quindi le gare allenamenti il villaggio olimpico tutto quello che riguarda questo team che è un team davvero importante a cui auguriamo ogni bene perché sono davvero nostri amici e quindi non perdetelo perché è molto interessante è qualcosa di esclusivo in questi giorni che ci separano all'inizio dei giochi è l'occasione migliore per poterlo guardare e conoscere qualcosa di più di come è un'Olimpiade vista agli occhi degli atleti per il momento dicevo è tutto noi ci sentiamo nei prossimi giorni ci sentiremo praticamente quasi tutti i giorni durante i giochi olimpici avremo tanto sul canale quindi seguiteci continuiamo a condividere assieme la passione olimpica e a presto di nuovo su Olimpodcast grazie a tutti